Buongiorno a tutti, mi chiamo Veronica, sono la prima studentessa dell'Università dell'Insubra di Como ad aver fatto il programma di doppio titolo presso l'Università di Siviglia. A Siviglia sto seguendo un Master di Traduzione e Interculturalidade presso l'Università di Siviglia e consiglio veramente a tutti di fare questa esperienza per sfruttare al meglio ciò che questo Master offre a noi studenti stranieri. Nel Master ci sono molte materie davvero utili secondo me per la nostra formazione, in generale per la formazione di un traduttore quindi materie che vanno da nuove tecnologie applicate al campo della traduzione a la traduzione specialistica in diversi ambiti quindi dall'ambito economico, giuridico ma anche nell'ambito letterario e per esempio anche nell'ambito della traduzione audiovisiva. Quindi ci sono davvero molti corsi che si basano su delle attività pratiche quindi secondo me hanno davvero un buon metodo di insegnamento per quanto riguarda la formazione dei traduttori. Al di là del Master consiglio vivamente questa esperienza anche in generale per ciò che questa esperienza comporta a livello sicuramente culturale ma anche personale. È un'esperienza davvero bella che può arricchire sotto diversi punti di vista. Si può innanzitutto arrivare ad ottenere un livello di spagnolo davvero importante dal mio punto di vista perché comunque abbiamo l'obbligo di parlare praticamente 24 ore su 24 tutti i giorni la lingua spagnola quindi dal parlare dalla semplice conversazione con una conquilina alla conversazione un po' più formale importante con i professori. Quindi comunque abbiamo l'occasione di migliorare tantissimo il nostro livello della lingua e anche di confrontarci con diverse persone. Quindi a parte il Master e il livello di spagnolo consiglio questa esperienza anche per quanto riguarda la città di Siviglia che è praticamente una città universitaria quindi ci sono molte opportunità per i giovani, molte opportunità per gli studenti e gli studenti possono sfruire di diversi servizi quindi davvero non vi mancherà niente né nella città in generale né all'università. Per quanto riguarda la città è anche abbastanza semplice trovare un alloggio lo dico perché so che può essere insomma una preoccupazione per gli studenti che intraprendono questo tipo di programma di esperienza però a Siviglia comunque ci si può tranquillamente gestire e vedrete che alla fine non è così difficile come invece sembra in partenza e per chiudere spero insomma di essere stata utile per comunque il poco che ho spiegato però spero comunque di essere stata utile e di avervi almeno un pochino motivato per poi scegliere di fare questo tipo di programma, questo tipo di esperienza ringrazio la professoressa Anive Sarribas dell'Università di Cuomo che è stata davvero impeccabile nella gestione burocratica e non del progetto e la professoressa Trapassi che è la nostra referente è la referente del progetto direttamente nella Università di Siviglia e spero insomma di essere stata utile e di non avervi annoiato troppo e le consiglio a tutti gli studenti che facciano questo tipo di programma di doble titulazione e che disfruten molto di la città e di questa esperienza perché la verità è che è molto buonata molte grazie e un cuore saluto a tutto il mondo